Allora, si festeggia il numero 700, per puro piacere statistico sono andato a vedere quando è stato il mio primo articolo su questa rivista, era il numero 284. E' una rivista che nonostante il titolo dà una grande libertà, io mi sono provato sempre libero a scrivere tutto quello che ho fatto nella musica, nella filosofia e anche nella letteratura, non mi è mai stato tagliata una vita e sono uno che scrive in modo sempre inquadrato, ve lo sanno. Quindi sono molto contento di questa libertà che ho qua. Carissimi, niente discorsi, sono molto felice soprattutto di vederli qui e quindi per arrivare a questa conclusione provvisoria perché andremo avanti ancora per almeno altri 700 numeri. E quindi grazie di tutto davvero, di gran cuore, ognuno qui ha lavorato, ha messo la sua parte e soprattutto è importante perché conta di perseverare in questa situazione. quindi noi la nostra linea l'abbiamo, i nostri desideri sono infiniti e quindi pian piano li esauriremo tutti quanti. Grazie mille. 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 Grazie mille.